Smantellato un'organizzazione criminale datita allo spaccio di stupefacenti con ramificazione anche all'interno del carcere di Salerno. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Mercato San Severino non solo hanno individuato gli spacciatori che operavano all'esterno, ma anche coloro che gestivano la vendita di droga all'interno del carcere, sfruttando i detenuti tossicodipendenti. L'operazione condotta dalle forze dell'ordine su richiesta della direzione distrettuale antimafia di Salerno ha portato all'arresto di otto soggetti coinvolti in questa organizzazione criminale, localizzata nel comune di Baronissi e dotata di un'accurata ripartizione di ruoli e compiti, dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti di varia tipologia, ovvero crack, cocaina ed eroina. Secondo l'accusa, l'organizzazione criminale avrebbe approfittato dell'arresto e della detenzione nella casa circondaliare di Salerno Forni di un loro associato per trasferire la droga anche all'interno dell'istituto penitenziario, sfruttando la presenza di detenuti tossicodipendenti disposti ad acquistare lo stupefacente commercializzato dal gruppo ed introdotto all'interno della struttura attraverso la predisposizione e spedizione di pacchi destinati a detenuti oppure la consegna da parte di familiare durante i colloqui. La droga veniva pagata mediante ricariche effettuate dai congiunti degli assuntori detenuti su due carte prepagate riconducibili al gruppo criminale.